Le metallifere grossetane nasconde un'altra meraviglia, un pezzo del pianeta Marte precipitato sulla Terra. Le roste nel comune di Montieri, lungo il corso del fiume Merse, dove le sabbie delle rive sono di un colore innaturale, sembra quasi di essere un deserto del Nord America. Qui venivano arrostite le cataste di materiale per estrarre il rame. Ecco cosa dà il colore alla Terra.